Non è stato un fine settimana positivo per la maggior parte dei tre squadri ragusani, delle quattro maggiori, diciamo, più l'Hockey, che però l'Hockey fa la Coppa Confederale, ha comunque vinto, tra le maggiori hanno vinto soltanto la Passalacqua e il rugby, il sud-est, che continua la sua corsa, ha vinto a larghissimo punteggio. Per quanto riguarda il calcio, prima di parlare della sconfitta del Pro Ragusa sul campo del Megare, il Megare ha raggiunto i ragusani al secondo posto, ma il campionato dei ragazzi di Mirabella e di Nicolo è comunque superiore per il momento a qualsiasi elogio e a qualsiasi aspettativa. Veniamo dal Ragusa calcio. Ieri Ragusa ha perso, ha perso una partita, è stato anche sfortunato, ha avuto le sue occasioni, ha preso un gol nel quale c'è stata una deviazione di mano, della quale però, almeno se non ricordo male, e anche dalle immagini, mi sembra che non se ne fosse accorto nessuno. È stata una cosa che è capitata. Giacuse è stato sicuramente alla pari nel primo tempo. Nella ripresa ha subito il gol, ha a sua volta poi subito, è come se fosse la maggiore preparazione atletica, ma sicuramente è andato di quel momento, siamo alla maggiore freschezza atletica degli avversari. Poi ha avuto l'occasione nel finale, su uno splendido colpo di testa di Otti, c'è stata una gran parata del portiere loro, che si chiama San Giuliano, è andata male. A fine partita c'è stato un po' di contestazione, oggi sui social, di cui non parlo mai, c'è stato ancora un pochino di contestazione, si è parlato qualche volta a proposito, qualche volta a non a proposito, il Presidente Giacuse comunque dice, al di là poi se uno può essere d'accordo o meno, ma dice una cosa verissima, non c'è gente che va al campo, la società non prende soldi dal pubblico, intanto vedete la rete, Giacuse non protesta perché nessuno si è accorto della deviazione di mano, pare di un giocatore loro stesso. Ripeto, al campo la gente non va, la seguono, sono i 30 appassionati, la seguono dovunque, ma quando poi la domenica c'è una partita contro un avversario tutto sommato abbastanza forte, anzi si può essere rivolato, più che abbastanza forte come il Sambiasi, c'erano diciamo 300 spettatori, 300 qualcosa, leviamocene una trentina di tifosi ospiti, quanta gente c'era, pochissima, per cui vi rendete conto che certo il Presidente ha ragione, la gente al campo non ci va e uno comincia a chiedere, dice ma perché spendo questi soldi, faccio questo, quando poi il supporto da parte del pubblico non viene e questo stesso pubblico che non mi supporta, perché non viene al campo, poi ovviamente si lamenta, a torta ragione, fa paccano, contesta, eccetera. È una situazione difficile che capita purtroppo un po' dovunque, in tutti i campi di calcio, in particolare nelle serie minori dove davvero affrontare un campionato è un atto di fede, perché costa tanto il rientro, non c'è assolutamente. Purtroppo, ripeto, è stata una partita che la squadra ha giocato, io non credo che gli si possano dare torti alla squadra sotto il profilo dell'impegno, poi non ce l'è fatta, perché le cose sono andate così, perché magari portiere avversario a parade, perché tu hai fallito qualche vuolo, perché loro sono stati bravi, perché il Sabiase era una squadra bella, molto organizzata, una squadra che viene dall'avere vinto il campionato d'eccellenza l'anno scorso, quindi gente che si conosce molto bene, perché Ragusa ha molti assenti. E quindi, purtroppo è andata così, ora domenica c'è una partita molto difficile in casa della Vibonese, che veleggia tra i primissimi posti in classifica e punta a ritornare in Serie C, quindi non è un momento facile, ma sono sicuro che Ragusa ha in sé le possibilità e la voglia di rifarsi. Per quanto riguarda invece il discorso di Gianni Papa come giornalista, ho ancora una volta, ma l'assessore mi ha promesso che prenderà provvedimenti e credo che questa volta se li prende, se prenderà quelli che ha detto sono seri, insomma mi pare strano, ho dovuto fare l'articolo, io e i colleghi, ieri c'erano i tre che ci occupiamo, Gazzetta Sicilia e Giornale Sicilia, messi in un cunicolo di un metro circa, mentre invece la tribuna stampa con il Stato Faglio Unito siano forse due o tre persone, mi spiace che ovviamente il concetto di colleganza fra i giornalisti, evidentemente qualcuno o qualcuna non lo tocca, comunque la società, credetemi, che cosa ne possiate pensare, sbaglia perché quel che è stato sempre così a volere cambiare, io mi auguro che Ragusa si recuperi presto e bene, ma sinceramente questo discorso sarebbe una stampa e l'unica definizione è assurdo. Bene, chiuso questo veniamo a parlare della pallacanestro, ricordando della bella vettoria del rugby, la bella vettoria anche in Coppa Confederale del Loghi, pallacanestro cominciamo dalla passalacqua, la passalacqua che ricordiamo sconta tre punti di penalizzazione perché pare ci siano state irregolarità formali e amministrative nell'autoretrogessione dalla 1 alla 2, ebbene la passalacqua ha infilato la quarta vittoria di fila, quindi sarebbe in testa se non fosse che da 8 i punti sono diventati 5, l'unica squadra, credo, o quasi l'unica fra tutto il panorama della pallacanestro maschile e femminile italiana che ha il punteggio dispari. C'è 5 punti, la squadra ieri ha sudato, Umberti è una squadra che la passalacqua ha incontrato molte volte in Serie A, è andata in vantaggio nettamente, poi la partita si è fatta dura, ci sono state una serie di falli tecnici, ci sono state qualche uscita per 5 falli, ma alla fine i 10 punti di vantaggio sono stati sempre un margine abbastanza sufficiente per poter permettere di gestire la situazione con calma, senza particolari difficoltà. Quindi continua la cavalcata della squadra di Marabuzanca, continua bene con le giocatrici, le varie, una volta è Chiara Consolini, una volta sono le storiere, una volta è play l'argentino e la siciliano, la squadra magari non è sempre al top, ma questo misto tra esperienza e gioventù i risultati li sta dando in pieno. La squadra non solo vince, ma convince, ieri ha convinto, in realtà ha vinto solo per 10 punti, ma non ha avuto mai il minimo problema, su un campo che sicuramente non è facile, Umbertide ha anche una buona storia anche in A1, quindi la situazione continua a scorrere su quei binari oliati che tutti si speravano, poi vedremo verso quale destinazione e quale traguardo. Al momento però avrebbe 8 punti, ne ha 5, ma i 5 già le bastano a farla essere in pienissimo nella zona playoff. E questo per quanto riguarda la pallacanestro maschile. Per quanto riguarda purtroppo invece la Vietus, la situazione è diversa, perché la squadra onestamente nella partita di ieri sconfitta in casa non ha reso come si poteva e si doveva sperare, ha tenuto per un certo periodo, è stato anche in vantaggio, poi ha perso un po' la maniglia e alla fine credo che abbia incassato 10 punti di scarto. Ora, se non ho sbagliato i conti, su 6 partite ci sono 5 sconfitte, pesano. La squadra gioca, la squadra dimostra di avere un potenziale, ma molto spesso questo potenziale sicuramente notevole non riesce poi ad essere espresso nel modo dovuto. E gli effetti sulla classifica sono quelli che sono, due soli punti, molte sconfitte, il morale che cala giù, la passione del pubblico che non cala, però sicuramente viene messa a dura prova. Io assolutamente credo che non c'è la minica colpa da parte dei dirigenti, della società, neanche dei giocatori. È un momento difficile, bisogna fare quadrato, riunirsi, cercare di parlarsi e di cercare di trovare quelle che sono le soluzioni. Fermo restando che sicuramente questo nuovo campionato è un campionato di spessore ben maggiore rispetto a quello che la Virtus ha vinto l'anno scorso, quindi l'effetto è quello che è. Quindi è importante che il pubblico stia accanto alla squadra, è importante che la dirigenza stia accanto allo staff tecnico e ai giocatori perché si tratta di ritrovare fiducia. La squadra c'è, la squadra è buona, la squadra deve ritrovare dentro di sé, non le motivazioni perché non le sono mancate mai come non è mancato l'impegno. La forza, la voglia, non la voglia, la capacità di portare fuori tutto quello che ci ha detto e credetemi è molto. Lavoro che riesca a farlo e riesca a farlo presto perché prima che la situazione diventi davvero complicata. Detto questo, ricordando allora c'è stata vittoria del rugby al larghissimo punteggio a Trapani, vittoria dell'Oge in Coppa Confederale, vittoria della passalacqua ad un perdite sconfitte per Pro Ragusa, fuori Ragusa in casa e Virtus anche in casa. Non è stato un gran fine settimana per le squadre ragusane, speriamo di venire a raccontare cose migliori la prossima settimana. Vi saluto.